Ciao, sono Elena Righi di Gateway.com. Mi hanno chiesto più informazioni, ma nell'annuncio dell'immobile c'è già scritto tutto. Non so cosa rispondere. Ti è mai capitato di ricevere una richiesta del genere da un acquirente estero e di trovarti nella stessa situazione? Niente panico, ecco come rispondere. Gateway.com, l'estero per tutti. Segui questi sei passi e le richieste generiche di maggiori informazioni non faranno più paura. Fornisci tutte le informazioni mancanti che spesso non vengono incluse in un annuncio. Caratteristiche chiave dell'immobile. Qual è la disposizione delle stanze? Che tipo di finiture ha? Quali sono le condizioni dell'immobile? Ha bisogno di lavori di manutenzione? Quali? Che stile di vita può offrire? Informazioni sulla zona. Fornisci informazioni sul clima locale e l'ambiente in cui è inserito l'immobile senza tralasciare dimensionare la vicinanza a servizi, scuole, ospedali, centri commerciali ed eventuali trasporti pubblici a disposizione. Tutte queste informazioni aiuteranno il cliente a farsi un'idea più completa della vita in quella zona. Aspetti legali e fiscali. Oltre al prezzo di acquisto, spesso gli acquirenti esteri sono interessati ai costi operativi associati alla proprietà, come le tasse annuali, le eventuali spese condominali, i costi di manutenzione e gestione. Preparati anche a offrire informazioni su regolamenti locali ed eventuali procedure burocratiche. Condividi le testimonianze di altri acquirenti stranieri che hanno acquistato una casa nella stessa zona. Le esperienze positive di altri che sono riusciti a realizzare il proprio sogno italiano influenzeranno la decisione di acquistare un immobile proprio con voi. Invia ulteriori immagini non presenti nell'inserzione ma che potrebbero essere interessanti. Poni tu stesso delle domande. Si tratta di una strategia sempre vincente e un feedback sarà quasi assicurato. Spero che questo video possa esserti utile. Se ti è piaciuto lasciaci un like e per qualsiasi domanda scrivici nei commenti. Qui ti lascio altri video che potrebbero interessarti e per non perdere i nostri prossimi consigli iscriviti al canale. Gateway.com, l'estero è per tutti.